Sto facendo l'alcol test al pane, wow! Come sono arrivato a questo punto? Passerà il test? Ve lo spiego tra poco e vi darò la ricetta del pane biotecnologico che da millenni vi nascondono. Prima voglio dirvi che questo video è il primo di una nuova serie che ho realizzato appositamente in occasione della European Biotech Week, la settimana europea del biotech, un evento internazionale che include eventi divulgativi un po' in tutta Europa e anche ovviamente in Italia. Perché la Biotech Week? Beh, è una bella iniziativa a cui ho partecipato in passato con alcune conferenze spettacolo dal vivo, ma stavolta è venuta fuori un'idea diversa che è quella di una serie di video divulgativi qui sul mio canale da inserire nel programma ufficiale della Biotech Week. La serie sarà di 5 video ed è realizzata grazie alla collaborazione con Sanofi Genzyme, di cui vi segnalo una bellissima iniziativa dedicata al mondo dei makers che si chiama Make2Care, con tanti smanettoni come voi impegnati a inventare oggetti utili nei vari tipi di disabilità. Se siete makers e avete un'idea da proporre vi metto il link in descrizione, ma prima guardate questo video. Lo sentite il pane Biotech? Respira. E prima che questo video sia censurato, vi do la ricetta per farlo a casa. Allora, per la ricetta servono acqua, sale, farina e perché sia biotecnologico ci vuole un organismo biologico. E già, perché se aprite il dizionario la definizione di biotecnologie è ottenere prodotti, o anche farmaci, cure, utilizzando organismi viventi o parti di esse. E allora, eccolo, l'ingrediente biotecnologico che rende vivo il pane. Come? Anche voi fate il pane con il lievito di birra? Beh, ma allora anche voi usate la ricetta biotecnologica? Magari non lo sapevate. Il cosiddetto lievito di birra non è altro che un microorganismo, per la precisione un fungo monocellulare chiamato Saccharomyces cerevisie. Eccoli Saccharomyces al mio potentissimo microscopio e ognuna di queste palline, che vedete, è un individuo di Saccharomyces. Quando si parla di biotecnologie immaginiamo applicazioni high tech, laboratori, camici bianchi, eccetera. Ci sono anche quelle e ne parleremo nella serie, ma è anche vero che moltissime biotecnologie sono in mezzo a noi da millenni, come questa. Cosa fanno di interessante questi Saccharomyces? Lo vediamo subito con un piccolo esperimento. Acqua. Zucchero. Lievito di birra. Mescoliamo bene. E si aggeliamo con un guanto di lattice. Per ora niente farina, vediamo come i Saccharomyces se la cavano da soli e li lasciamo tranquilli a lavorare per una ventina di minuti circa. Forza ragazzi, dai dai dai! Il guanto di lattice si è gonfiato, quindi i piccoli mostri Saccharomyces hanno prodotto del gas. Quale gas? Cosa emettono i lieviti? Come facciamo a saperlo? Calma. Lo scopriamo con un piccolo esperimento. Questo liquido trasparente è idrossido di calcio, volgarmente detto calcio spenta o calcio idrata. In descrizione vi scrivo come procurarvi l'idrossido di calcio e come preparare la soluzione trasparente. È molto semplice, se poi avete delle difficoltà scrivetemelo nei commenti. L'idrossido di calcio è un semplicissimo rivelatore chimico di anidride carbonica, ovvero di CO2. Proviamo a soffiare nell'idrossido di calcio. Vedete che si è intorbidito, significa che dai miei polmoni esce anidride carbonica, ovvero CO2. L'idrossido di calcio infatti reagisce con l'anidride carbonica formando un precipitato bianco. Nulla di strano, come tutti gli organismi che respirano, usiamo ossigeno per bruciare i nutrienti e nel far questo produciamo come scarto CO2 che dai tessuti passa nei globuli rossi del sangue e dal sangue passa nei polmoni dove viene espulso. E i lieviti cosa producono? Qui c'è il gas prodotto dai lieviti e facciamo la prova con l'idrossido di calcio. Si è intorbidito alla grande, quindi vi do una notizia bomba e sì, anche i lieviti producono CO2. Quando mettiamo i lieviti nell'impasto con la farina tutto è un po' più lento, ma alla fine la reazione avviene lo stesso. I mostriciattoli saccharomyces in questo caso usano l'amido della farina come fonte di zuccheri e come prima respirano e producono CO2. Infatti moltissime bollicine di CO2 restano intrappolate nell'impasto e lo gonfiano rendendolo soffice, leggero, morbido, proprio come piace a noi. E' appunto la lievitazione. Senza la lievitazione abbiamo il pane azimo duro e non possiamo sicuramente fare una pagnotta o una pizza. I lieviti sono organismi eucarioti proprio come noi e sono in grado di respirare proprio come le nostre cellule. Ovviamente i lieviti non hanno polmoni e neanche un sistema circolatorio ma hanno gli stessi cicli metabolici che abbiamo noi. Ma c'è un'altra cosa che i lieviti producono molto interessante ma più difficile da scoprire. Bisogna avere un buon olfatto oppure questo, un etilometro. Stiamo per fare l'alcol test a una pagnotta. Documenti, signor Pagnottelli? Se ti piace questo video ti chiedo un piccolo favore, metti un like al video e se proprio vuoi che la tua giornata sia memorabile, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche così non ti perderai tutti i nuovi video che arriveranno. Questo è un etilometro che si usa per l'alcol test e che misura la concentrazione di alcol etilico. Il risultato è zero. Sono sobrio. La cosa difficile è far soffiare il pane nell'apparecchio. Però posso usare questo soffietto per prelevare un campione dall'interno della pagnotta. Signor Pagnottelli è pronto? Lo soffio dentro all'etilometro. Zero due quaranta. C'è dell'alcol. Se questo fosse un controllo della polizia e se il signor Pagnottelli come credo fosse un neopatentato il suo tasso alcolico sarebbe fuori dalla norma. Lei signor Pagnottelli deve fare molta attenzione. Mai fare la stupidaggine di bere e guidare ragazzi. Ma non possiamo ovviamente paragonare il tasso alcolico di una pagnotta con il nostro. Il risultato però ci dice che comunque qua dentro viene prodotto dell'alcol. Chi lo produce? Facciamo una prova. Ho travasato la coltura di Saccharomyces quella senza la farina solo Saccharomyces acqua e zucchero quella di prima in una bottiglia di plastica con il tappo bucato in modo da poter soffiare o far soffiare i Saccharomyces nell'etilometro. Vediamo se c'è anche dell'alcol. Wow! 1,8 e 35. Se fosse un controllo stradale questa coltura di Saccharomyces sarebbe assolutamente fuori dai limiti. Ovviamente di nuovo non possiamo fare il confronto fra il tasso alcolico di una coltura di Saccharomyces e il nostro tasso alcolico. Lo strumento è molto sensibile perché appunto è tarato per misurare quel pochissimo alcol che passa dal sangue ai polmoni e dai polmoni al respiro. Ma comunque significa che i piccoli mostri producono dell'alcol. Ma attenzione, l'alcol si produce dopo un po' che abbiamo aggiunto i lieviti quando comincia a scarseggiare l'ossigeno nell'impasto o nel contenitore che abbiamo chiuso ermeticamente. All'inizio i lieviti trovano sufficiente ossigeno per respirare, proprio come noi. Quando l'ossigeno si esaurisce i lieviti smettono di respirare e iniziano a fermentare. Nel caso dei lieviti questo processo di fermentazione produce alcol e si chiama appunto fermentazione alcolica. La fermentazione è un processo anaerobico, cioè non richiede ossigeno. In carenza di ossigeno i lieviti non riescono a demolire completamente gli zuccheri, possono solo per così dire bruciarli in parte e quindi li trasformano un po' in CO2 e un po' in etanolo. La fermentazione produce molta meno energia rispetto alla respirazione, ma permette comunque ai Saccharomyces di vivere benissimo anche senza ossigeno. Tra parentesi, prima che gli esperti mi sparino, diciamo anche che i lieviti passano alla fermentazione alcolica a volte anche quando c'è ossigeno, in risposta all'ambiente, nutrienti eccetera. Ma senza ossigeno non hanno altra scelta che fermentare. Per noi l'alcol non è per niente uno scarto e infatti il Saccharomyces si usa da millenni per produrre tutte le bevande alcoliche che conosciamo. Non a caso si chiama anche lievito di birra. Ogni popolo ha sempre usato i Saccharomyces per fermentare quello che trovava, purché ovviamente avesse degli zuccheri. La ciccia delle Ande, che è la mia preferita, è fermentato di mais, masticato dalle vecchiette e poi sputato in un catino. La cosa interessante è che questo recipiente con i Saccharomyces, o anche il tino dove si fa a fermentare il mosto per fare il vino, sono bioreattori, che come vedete non esistono solo nei laboratori o nei racconti di fantascienza. Un bioreattore e infatti è semplicemente un'apparecchiatura che permette la crescita di organismi biologici da cui magari ricaviamo anche dei prodotti. Genitori 1 e genitori 2 tranquilli, i vostri bambini possono continuare a mangiare tranquillamente il pane perché l'alcol nell'impasto non è tantissimo, ma soprattutto durante la cottura tutto l'alcol che c'è nell'impasto evapora. E perché noi non siamo in grado di passare alla fermentazione quando manca l'ossigeno? E chi l'ha detto che non siamo capaci? Non riusciamo a vivere senza ossigeno, questo è chiaro. Però, però, ogni tanto anche noi fermentiamo. O meglio, lo fanno le nostre cellule muscolari quando ad esempio facciamo uno sforzo intenso che non a caso si chiama sforzo anaerobico. In questo caso il sangue non fa in tempo a rifornire di ossigeno le cellule muscolari e loro, piuttosto che fermarsi, fermentano. Prima che iniziate a correre per rubriacarvi, è utile sapere che quella dei muscoli non è fermentazione alcolica, ma fermentazione lattica, dove si produce un altro composto che è l'acido lattico. Bene, spero di avervi allietato con questo escursus biotecnologico. Avete altre biotecnologie in casa? Pensateci e magari ne parlerò nei prossimi video. Vi ricordo che in descrizione trovate le istruzioni più dettagliate per preparare l'esperimento. Date anche un'occhiata alla pagina Make2Care di Sanofi Genzyme, ve la metto in descrizione. Cervello sempre acceso dentro la scatola cranica. Alla prossima! Lo stiamo perdendo!